e intanto in zona podio modulo vigato dal farra Malievic Zannoni Benomar Gusperti, Zarpellon, Gnoato, Peron, Nardini, Baxter, Gallagher, Biondani e Casarin queste atlete in zona podio al termine dei cento stile libero maschili effettueremo le premiazioni per la serie cinque i blocchi Luca Discardi in uno Matteo Botti in due Alessio Cagnini in tre Gabriele Turelli in quattro Matteo Vicentini in cinque Pietro Discardi in sei Marco Lorenzoni in sette Fulvio Siviero in otto Alberto Ferro si aggiudica la sesta serie cinquantaquattro e ottantasette